Davide, vi troverete di fronte a due attaccanti con caratteristiche diverse, ma entrambi molto veloci. Quali soluzioni tattiche avete pensato per limitarli? Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita giocando in casa e limitare il più possibile i loro attaccanti perché hanno delle qualità molto veloci, quindi dobbiamo cercare di fermare, soprattutto perché il Cagliari è da tanti anni che gioca assieme ed è una grande squadra, quindi faremo il possibile per fermarli. Grazie, bocca al lupo. Crepi, grazie. Davide, un bergamasco trovato ormai da tanti anni in Sardegna, che effetto fa tornare qui a Bergamo? È sempre un piacere tornare alle origini, quindi è una partita speciale per me. C'è tanta parentela in tribuna a vedere questa partita, ma comunque siamo concentrati e cerchiamo i tre punti. Grazie, bocca al lupo. Crepi. Per Serie A Team, reporter per un giorno, Giuseppe Cacciavuoti. Grazie. Grazie a tutti.